Sulla Dante Alighieri ci stiamo lavorando, le procedure di gara sono terminate, la Commissione sta esaminando le offerte che ci sono pervenute e l'obiettivo era e è quello di iniziare i lavori tra luglio e settembre del 2021, contiamo di riuscirci. Ci sono, mi sembra, 9 o 10 ditte che hanno partecipato al bando di gara e penso che nel giro di due o tre settimane si termineranno le operazioni di valutazione della ditta che si aggiudicherà ai lavori e quindi anche quello sarà uno degli interventi strategici nella nostra città. È una città che è stata per tanti anni senza realizzare nuove scuole, noi nel giro di due legislature riusciremo a portare a casa due nuovi edifici scolastici, l'Olivieri e ora la Dante Alighieri. Non ci fermiamo qui, stiamo continuando a progettare perché con progetti pronti nelle mani possiamo aggredire i bandi ministeriali, europei e regionali che ci sono sul tema dei nuovi edifici scolastici. Parliamo dell'area attorno alla ferrovia, è un'area strategica in questo momento di lavori, dopo mezzo secolo si fa un intervento importante sul cavalcaferrovia e sull'attigo sottopassaggio dei cappuccini. Sì, in quell'area lì innanzitutto stiamo trattando per chiudere il parcheggio di Porta Capuccina, abbiamo acquisito per 1.400.000 euro all'interno del progetto Bandoli Periferie tutte le aree di proprietà della stazione a ridosso dei binari della stazione stessa. Attualmente abbiamo un appalto in corso già giudicato e pronti ad iniziare sul cavalcaferrovia per primo straccio di 175.000 euro. Anche qui stiamo aspettando le ultime carte perché come dico io qui ci sono sempre più carte che cariole parlando di lavori pubblici perché per avere un'autorizzazione passano mesi, magari per fare lavori ci vogliono poche settimane. In più stiamo aspettando la validazione del progetto relativo al sottopasso dei cappuccini e del vecchio deposito delle locomotive, a quell'edificio che vedete sotto il cavalcaferrovia che sarà dedicato alle biciclette, al trasporto sostenibile, ci sarà un piccolo bar, quindi vogliamo che quella zona in qualche modo sia vissuta. Bisogna creare movimento, bisogna creare attrattività e pensiamo che attraverso questi due interventi cambi molto le dinamiche di quella zona. Abbiamo terminato praticamente i lavori nella rotatoria di Loreto, adesso stanno arrivando i punti luce, le nuove alberature sono circa 10 e poi appena la ditta ci darà disponibilità, il tempo lo consentirà, asfalteremo anche la rotatoria e quindi i lavori saranno terminati. Anche quella è una delle rotatorie che avevamo sperimentato e che ha dato i risultati che tutti quanti ci auguravamo e abbiamo pensato subito di investire una cifra importante per renderla definitiva. Nel frattempo andiamo avanti con il progetto della circonvallazione verde, quella che ci vuole portare da Via Fratti a Via Ponchielli. Il primo tratto di Via Fratti è finanziato, stiamo preparando gli ultimi dettagli per poi riuscire ad andare in gara e partire con i lavori entro l'anno.